Sarà l'ingegnere Lisa Leone di Piraino ad effettuare il servizio di verifica ai fini della successiva validazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica su un progetto di finanza presentato al comune di Barcellona Pozzo di Gotto dall'Associazione Temporale di Imprese, Consorzio Artigiano Edile Comiso, Consorzio Artigiano Edile Sicilia. Riguarda la concessione di costruzione e gestione di un nuovo edificio loculi con annessi servizi da edificare in adiacenza al Palazzo della Divina Misericordia nel cimitero comunale di Barcellona Pozzo di Gotto. Il progetto prevede un costo complessivo di oltre 8 milioni 680 mila euro a fronte della durata proposta per la concessione pari a 20 anni. Nel 2019 l'esecutivo ha approvato in linea amministrativa la proposta di progetto di finanza e l'anno successivo la conferenza speciale di servizi indetta dall'ufficio del Genio Civile ha dato parere favorevole a questo punto la verifica da parte del professionista di Piraino. Nello stesso tempo la commissione straordinaria di liquidazione composta da Maria Cacciola, Maria Di Nardo e Giancarlo Irrera nominata a seguito della dichiarazione dello stato di distesto finanziario del 27 novembre 2023 ha proposto all'esecutivo di Pinuccio Calabro l'adesione alla procedura semplificata di liquidazione per accelerare le operazioni di risanamento e ridurre le spese.